Avrebbero commesso 12 rapine a mano armata dal gennaio al settembre 2017 in supermercati e distributore di carburanti ubicati nei quartieri San Paolo e Libertà a Bari. E l'accusa contestata dalla Polizia di Stato a quattro persone arrestate in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere messa dal GIP a conclusione di indagini della Scuola Mobile della Questura. I riati ipotizzati a vario titolo sono rapina aggravata, tentata rapina aggravata, porto continuato di arma da fuoco clandestina, ricettazione e furto aggravato in concorso. A finire in manette nelle prime ore della mattina toglierna i 22 anni Baresi, Nicola Sassanelli, Piero Bianco, Gaetano Minin, insieme al 33enne Giuseppe Fraddosio ad essere presi di mira all'Eurospin, l'Alter Discount, Penny Market e nonché al distributore di carburanti esso nei quartieri San Paolo e Libertà di Bari. Utilizzando anche autovetture di piccola cilindrata rubata e una pistola clandestina estremamente pericolosa in quanto realizzata modificando un'arma originariamente a salve, nonché una mazza in ferro. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica e del Tribunale di Bari e condotte dagli uomini della sezione contrasto al crimine diffuso della Scuola Mobile, hanno consentito di raccogliere gravi e concordanti elementi di responsabilità a carico di tutti i componenti della banda, che per le modalità seriali aveva suscitato non poco allarme sociale. Decisive ai fini dell'identificazione dei responsabili le immagini estrapolate dagli impianti di video sorveglianza dei supermercati colpiti. Nell'ambito della medesima indagine sono stati deferiti per il reato di favoreggiamento personale anche altri tre soggetti residenti nei quartieri Libertà e San Paolo, che hanno fornito al gruppo degli scooter poi utilizzati per commettere alcune delle rapine contestate. Sono ora in corso ulteriori approfondimenti investigativi tesi a riscontrare le eventuali responsabilità penali degli arrestati anche per altre rapine commesse a Bari, nei comuni limitrofi con identiche modalità.